salve a tutti questo è un unboxing particolare di insta360 flow e lo sto facendo con la telecamera dell'erologi in modalità tipo selfie stick eccola qua e adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro la scatola che ho già aperto allora c'è questo è il insta360 flow poi c'è il manico in più da che ho preso poi c'è un cavo usb c usb ok e una custodia in un panno abbastanza simile del panni ai panni quelli che usate per pulirvi le lenti degli occhiali o i vetrimi dei cellulari ok e poi c'è questo che è il gancio magnetico per l'insta 360 adesso cerco di girarlo eccolo qua che si vede un po meglio ecco il gancio magnetico dell'insta 360 che da agganciato al cellulare huawei per esempio ma vi dico che il cellulare huawei è un p10 light e deve essere piccolo come processore non funziona benissimo allora adesso cosa faccio prima di tutto per lavorare meglio metterò la videocamera della logi su questo questo manico che può essere usato anche per allungare il stick di vista 360 ok così adesso posso riprendere un po meglio che da una cosa buona ok e questo manico connessore manico si può allargare diventa un treppiedi quindi posso anche metterlo ecco l'ho messo per terra e mi guardo adesso quindi lo metto centrale e mi guardo che da una buona cosa ok e mi sto guardando adesso vi faccio vedere questo e mi faccio vedere tutte delle cose interessanti quanto ingombro a questo è che chiuso ed è spento questo il mio cellulare ed è alto di più un po di più vedete che sotto è un po più alto ok e anche come larghezza siamo lì siamo uguali come larghezza quindi l'ingombro di questo insta 360 flow che sarebbe un gimbal o stabilizzatore come vogliamo chiamarlo è veramente poco e sta dentro a questa custodia che poi conterrà anche i cavi di alimentazione tutto il resto perché sto dicendo questo questa parte qui è alimentazione cioè un caricabatteglie quindi volendo si può caricare sia l'insta 360 che il cellulare perché adesso vi faccio vedere qui trovato qui c'è l'usbc per caricare proprio penso l'insta 360 e poi più vicino al eccolo qua qua siamo vicini all'aggancio del cellulare dove andrà agganciato il cellulare si può anche caricare il cellulare quindi questa è la figata di questo giocattolino qui allora adesso vi faccio vedere come si apre allora lo tenete in mano per la parte della batteria così ok questo viene dato insieme a questo pezzo qui che adesso vi faccio vedere che lo sto muovendo che si aggancia dopo ed è un guanto chiamavano così in silicone per il manico e qua potete vedere qua potete vedere aspetta che lo devo girare giusto per farvelo vedere ecco che ziglinato quindi anche anti grip e anti sudoramento ok e prendendo il manico e girandolo ok appena lo si gira ha fatto tutto il giro invece sentito fatto il rumorino se già acceso quindi già acceso già pronto per funzionare ok questo è il modo di aprire il selfie c'è lo stick della in sta 360 o chiamamolo gimbal ok allora vedete che qua c'è un led bianco perché è acceso e solo spengo si è spento per spegnerlo completamente chiuderlo si gira questo allora diciamo che aprirlo e chiuderlo è bello duro non ha dei movimenti molto raschi ha dei movimenti belli tosti e quindi bello resistente l'idea da di essere resistente e questo che il pezzo che il solito sta così un po va girato e va chiuso in questo modo qui ok il basso ma qua altra cosa che possiamo vedere che qui c'è un'altra prolunga del manico allora lo giriamo di nuovo così non abbiamo più pezzi che ci danno fastidio che l'alto giù c'è un'interiore prolunga del manico e poi una cosa interessante che già il manico così senza l'interiore manico aggiuntivo ha un treppiedi perché questo si può allungare ancora di più e se ne sono tre ok e si allargano diventa un treppiedi questo treppiedi è un po molleggiato cioè la sensazione è che quando lo metto a terra è molleggiato ok e non è tanto largo invece il treppiedi del manico aggiuntivo è molto largo e può essere messo molto basso e largo quindi molto più stabile ok questa stiamo guardando tutta la parte hardware e oltre a questo treppiedi e il fatto che si può allungare ottenerlo in questo modo e qui di avere un manico ancora più lungo così si può allungare ancora un altro po perché qui come vedete e qui c'è un segno orizzontale perché qui dentro c'è un selfie stick realmente telescopico allora adesso devo tirare e devo fare tanta fatica perché è duro e viene ancora fuori ok eccolo qua questo è il selfie stick mi devo mettere a distanza allora vedete questo che è il selfie stick bello largo ecco così e addirittura il qui c'è un angolo se si può piegare il pezzo eccolo qui quindi il selfie stick può essere inclinato ecco questo è la cosa e consigliano di rimetterlo o orizzontale quando si deve rimettere a posto perché se no non sta sul piano di questo ok quindi adesso abbiamo visto praticamente quasi tutto l'hardware dell'insta 360 a parte questo pulsante qui che lo chiamano stream ok e vedremo cosa serve e la pulsantiera che qui col suo joystick che vedremo come serve quando useremo proprio il software e vedremo il cellulare in azione ok poi un'altra cosa che mi sono dimenticato è che sul retro qua c'è una specie di porticina tutto durissimo cioè quando si apre si chiude una cosa è durissima ok c'è questa porticina adesso ve la faccio vedere eccola qui dicono che qui si può incastrare un microfono allora ho provato i microfoni che ho a casa io non ne ho tantissimi piccoli addirittura ne ho uno solo e ho questo che è il microfono a clip della no man allora questo ha una clip ok e in questo spazzetto non si incastra ok allora posso usare la clip come una molletta e agganciarci questo ok posso chiuderlo così ho così il mio microfonino quindi si può fare qualcosa allo stesso è ed è un buon modo per agganciare un buon microfono che funzioni ok detto questo che è una roba esterna adesso andiamo a vedere un'altra cosa hardware che è importantissima che è e questa è la sbagliata io la prima volta come si mette veramente il gancio magnetico allora l'ho levato dal huawei perché non è il cellulare che voglio utilizzare allora questo è il gancio magnetico se lo vedete ci ha scritto insta360 e ce l'ha anche all'interno scritto in insta360 quindi ci vede qual è il sopra e sotto e su un lato eccolo qui c'è il simboletto del cellulare con la freccia o meglio nel simboletto del cellulare il simboletto di una videocamera e della freccia vabbè comunque per farvi capire che questo è l'alto so che sto provando a farvelo vedere ma si vede sfocato è così e ci dobbiamo fare una ragione allora il mio cellulare dietro a trentissime cose vabbè perché praticamente ne ho perso uno quindi mi sono scritto delle cose per rendere il cellulare più il conoscibile che sia mio vabbè allora la cosa interessante è che questo attrezzo non va applicato a casaccio va messo giusto perché il cellulare deve stare in centro e deve essere calibrato il cellulare rispetto all'applicazione e quindi se non si fa la calibrazione e si mette questo pezzo giusto si rischia che poi tutta la funzionalità del prodotto non vada bene e sembri di aver comprato una schifezza allora ho avolutamente fatto una linea blu sul centro del cellulare questa linea qua ok tra l'altro quindi adesso posso mettere il gancio che è stensibile esattamente a metà della linea blu guardate come è venuto ok così è giusto ok fatto questo adesso vi faccio vedere una cosa qui c'è uno scanso ok quello è il pezzo che si deve coordinare come aggancio a qui perché tutto il pezzo è piatto tranne qui che c'è il gancio che esce fuori che si aggancia dall'altra parte quindi questa è la cosa da fare allora quando praticamente adesso lo faccio il gesto da chiuso si tira su fa ding si accende da solo quindi non serve fare chissà cosa per accenderlo poi il gancio magnetico si appoggia hai sentito che ha fatto clock quel clock e l'aggancio è potentissimo lo aggancio ok e il vostro selfie cioè il vostro gimbal mi veniva la parola ok è in verticale mi hanno detto che su iOS si apre l'applicazione subito qui no allora non si apre subito l'applicazione e cosa succede che perché ho un android allora bisogna andare sulla lista delle applicazioni e cercare l'applicazione che si può scaricare quel QR code che viene fornito nella scatola e c'è l'applicazione insta360 allora bisogna anche attivare sia il bluetooth che il gps perché il nostro prodotto hardware vuole cercare e trovare via bluetooth e gps il nostro gimbal questo è il discorso allora adesso l'avrà trovato mi do spegni ecco l'ha già trovato perché praticamente come dire eccolo qua collega un dispositivo l'ha trovato e l'ha collegato quindi adesso c'è il nostro dispositivo collegato eccolo qua allora adesso vediamo un attimo la panoramica del pulsantiera qua con tutti i pulsanti allora cercherò di essere più chiaro possibile e adesso faccio una cosa di questo genere apro con i tre pieghi e lo appoggio ok adesso prendo il tre pieghi dove c'è il giro giro così cominciamo a vedere un po' di cose allora prima cosa vedete che si posiziona in verticale e non è neanche tanto dritto se lo vedete il cellulare vabbè però il motorino è già pronto c'è tutto rigido quindi non muovete il cellulare a mano dovete farlo fare dalle funzioni del l'insta360 se no spaccate il motorino dell'insta360 adesso vediamo questa a pulsantiera qui allora due click e il nostro cellulare diventa orizzontale o verticale allora per settare bene il nostro cellulare c'è il pulsante con l'icona dell'insta360 il cellulare e ci sono tutte le modalità di follow del tracking praticamente come tracciare la persona però c'è da fare una cosa che la calibrazione automatica gliela facciamo fare successivo si fa 5 4 3 2 1 si mette in verticale poi cerca di stare un po' così si capisce con il resto si mette in orizzontale ok avete visto che si è messo in orizzontale adesso si capirà e poi si metterà in orizzontale e si è spostato allora a occhio voi non credo che lo veliate io si è un po' più basso verso destra quindi si può andare qui di nuovo e andare nella calibrazione orizzontale manuale e qua ci dice come deve essere messo il gancio magnetico come non deve essere messo il gancio magnetico vabbè confermo questa è solo una notifica e mi dice dove devo spostare di quanti gravi che adesso è più orizzontale così più orizzontale rispetto a prima e l'ho messo orizzontale quindi questa è la cosa che bisogna fare se non fate questa calibrazione fatta da Dio e fatta bene poi per tutto il resto del tempo che voi usate l'insta360 il motorino non capirà un cacchio vi darà delle segnalazioni stranissime sentirete anche il motorino grattare tipo e non si capisce e da di nuovo riesce a rimanere orizzontale sbiccia in stand by in verticale fa i macelli quindi prima cosa fatemi una bella calibrazione detto questo qua si possono fare tanti tracking di tutti i tipi tipo adesso giro la videocamera ok mi vedo me stesso già ha beccato la mia faccia quindi ha già beccato il mio viso come soggetto da seguire quindi posso muovermi vedete che adesso facciamo una cosa allargo un attimo qua per dargli un po' di stabilità alla ripresa ok in più questo lo tiro un po' più su non di tanto eccolo qua allora io mi sto muovendo con la faccia e si sta muovendo anche il cellulare ok questo è il tracking automatico che ha una velocità media non veloce non lenta e ha il tracking sia sull'asse x che sull'asse y se io sul tracking gli dicessi panflow avrei bloccato il tracking sull'orizzontale e in altri video tutti dicono che è più bello perché sugli esterni il tracking bloccato così camminando per esempio sul lungomare si riesce ad avere un effetto molto cinematografico ok bello sì ok io principalmente lo userò in ambienti chiusi per fare delle riprese intervistare delle persone o farmi dei video in studio da me con la videocamera che mi segue o al massimo quando in fiera farò il montaggio dello stand farò un timelapse perché vi ricordo che qua si possono fare timelapse e timeshift quindi non vi spiego neanche cosa sono cercate su wikipedia o altri video di youtube e capite cosa servono e come si fanno e comunque qui c'è la possibilità di farli quindi se uno sa cosa sono ci mette due secondi a farli con questo programma l'altra cosa interessante che c'è all'interno del sistema c'è tutto un'intelligenza artificiale che cerca di capire qual è la ripresa che si sta facendo e propone dei video similari ovvero il programma ha all'interno un'applicazione per montare video e fare la storia completa la chiama così pratica e quindi per dirti ok fammi dei video in questo modo che poi io te rimonto ci metto gli effetti che dico io e faccio la storia figa lui cercherà di capire per esempio che sono in studio o che sono in una città turistica quindi potrà dirmi fai questi 4-5 video come la storia spiega la tua città turistica e poi dopo io monterò il tutto e farò il super mega video che è figo ecco questo è il discorso ok tra l'altro io posso anche muovermi male e cercare di uscire da questa ripresa ok adesso sono uscito vediamo se riesco a farlo ok adesso sicuramente sono uscito sono uscito e il tracking non mi segue più allora cosa posso fare dietro c'è il trigger il pulsantone trigger lo premo lui ritorna a centrarsi se non trova niente ok questa è una bella cosa quindi il pulsante trigger serve per resettarlo e metterlo centrale quando non trova niente poi man mano si rimette a posto e ho visto dei video dove facendo vedere in un centro commerciale una persona tracciata e tante altre che passavano davanti e comunque funziona ok poi ci sono le classiche funzionalità dei vari gimbal che fanno del tipo vuoi registrare allora c'è il tracking off e io gli dico on adesso ma è già on comunque questo delle mani per esempio inizia a registrare e smetti di registrare e con la mano quindi così adesso io faccio estendi il palmo e chiedilo alzato per 8 secondi e parte il countdown per registrare allora palmo 3 2 1 salve a tutti questo è un video che sto registrando ok quindi è un video che sto registrando adesso riestendo il palmo e ha finito di registrare vedete cioè il palmo serve anche per finire di registrare adesso ho il mio video già dentro eccolo qui questo è il mio video vabbè adesso si è incastrato però lo sto resettando vedete quando si non si capisce adesso gli alzo volume vado in play salve a tutti questo è un video che sto registrando ok quindi è un video che sto registrando adesso riestendo il palmo allora in teoria la cosa è che siccome avevo i 3 secondi di tempo potevo abbassare il palmo e aspettare il 3 2 1 ok quindi avevo solo il finale da tagliare ma comunque questo è un video che posso cancellare che hai cancellato questo è mia mamma e ho fatto un video di mia mamma dall'alto per vedere un po' di cose della videocamera vabbè ma cancelliamo anche questo perché ho testato il selfie stick in alto con la videocamera allora diciamo che il tracking lo fa se guarda di là quindi devo dire così così elimina consente elimina adesso vede me i tracci per favore ecco mi ha tracciato ok adesso mi metto in verticale e mi metto così mi traccia lo stesso e mi segue lo stesso quindi posso abbassarmi alzarmi spostarmi di qua spostarmi di là allora una cosa che vorrei fare in un prossimo futuro è per esempio adesso vi faccio vedere se il selfie lo continuo a chiamare selfie stick ma è un gimbal adesso cerco di spostarmi un po' qui allora mi giro un altro po' il cellulare ok andiamo a spostare anch'io qui c'è un pianoforte e vorrei fare delle riprese con il gimbal della insta360 mi so qui che riprenda la taschiera del pianoforte però non con la telecamera quella del selfie perché se no le mani sono storte e quindi sembra che quando suono qui infatti è così adesso cioè quando io sto suonando sembra che io sia distante rispetto a in questo caso no con questa ripresa così no cioè questa mano qui è molto più vicina al cellulare quindi vedete che mi sto avvicinando a voi quando invece faccio la ripresa qui è al contrario quindi la mano che voi vedete qui sembra più vicina quindi sembrano le mani incrociate è bruttissimo vedersi e quindi una delle cose che potrei risolvere è il fatto di fare una ripresa decente poi magari muovendo le mani e dicendogli fammi il tracking delle mani potrebbe anche darsi che faccia delle zoomate automagiche deciderà lui cosa fare potrebbe essere una bella soluzione sì però se io mi alzo invece di stare basso ok perché voi vedete una schifezza nella mia faccia ok adesso così meglio detto questo non c'è tanto altro da spiegarvi perché le funzionalità sono quelle penso che più avanti farò un video magari più dettagliato con delle funzionalità in più oppure con degli utilizzi miei particolari per questo video tutorial è tutto